Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video! Questo è un video speciale perché in realtà è stato un video molto, molto richiesto. Infatti, tanto tempo fa, ho fatto un video in cui commentavo il mio vlog a Firenze. E voi avete amato quel video, vi è piaciuto tantissimo, perché in quel video io quello che ho fatto è stato spiegare alcune delle frasi o delle parole più complesse che ho usato nel mio vlog a Firenze. E vi è piaciuto molto quel video perché avete imparato tante cose che probabilmente non avreste notato nel vlog. E allora oggi siamo di nuovo qui per fare esattamente la stessa cosa. Cercherò di fare altri video come questo in futuro. Oggi commentiamo i due vlog a Verona, quindi ho scelto per voi alcune frasi ed espressioni un po' più complesse e ve le spiegherò. Ovviamente, se non avete guardato i due vlog a Verona, vi consiglio di guardare questo video per capire un po' di più e poi andare a guardare i vlog completi per avere l'esperienza completa. Allora, iniziamo subito! Iniziamo dal vlog a Verona numero uno. Vediamo insieme! Sono venuto solo per una notte in realtà, perché adesso stamattina sono alle 7.15, alle 8.10 ho il treno, perché sto salendo di nuovo al nord Italia e questa volta sto andando a Verona. Non vedo l'ora, perché non ci sono mai stato, è anche per me la prima volta. Non vedo l'ora, perché non ci sono mai stato. In italiano usiamo l'espressione non vedere l'ora semplicemente per dire che siamo molto emozionati per qualcosa. Quindi se qualcuno dice non vedo l'ora, non ha niente a che vedere con l'ora dell'orologio, eh? Non vedo l'ora semplicemente significa essere molto emozionati per quella cosa, non riuscire ad aspettare. E poi ho detto perché non ci sono mai stato. In questo caso, dato che stavo parlando del fatto di andare a Verona, quel C in quella frase ha una funzione di pronome, quindi sostituisce a Verona. Non sono mai stato a Verona. Se vuoi saperne di più sulla particella C, ho fatto un video proprio su questo argomento. Lo lascio qui sotto in descrizione. Adesso andiamo avanti con la prossima frase. Ovviamente Romeo e Giulietta sono una storia inventata, ma in realtà anche questo balcone non è altro che una grandissima trovata di business. Non è altro che una grandissima trovata di business. Non è altro che una grandissima trovata di business. Quando in italiano usiamo la parola trovata non ha niente a che fare con il verbo trovare. Infatti una trovata è un'idea geniale, quindi in questo caso un'idea geniale di business. Oh, e la storia del balcone di Giulietta è incredibile, andate a guardare il video per saperne di più, se non l'avete già visto ovviamente. Però in fondo ci piace credere che sia tutto vero. In questa frase io sto dicendo in fondo, che semplicemente significa alla fine. Quindi alla fine, nonostante la storia, ci piace credere che sia tutto vero. Attenzione qui all'uso del congiuntivo, perché abbiamo il verbo credere. Ecco perché ci piace credere che sia tutto vero. Adesso passiamo al vlog numero due. Dopo aver visto la casa di Giulietta, siamo andati in Piazza dei Signori. Dopo aver visto la casa di Giulietta... Dopo aver visto la casa di Giulietta. Questo è molto importante. In italiano, quando usiamo l'avverbio dopo più un verbo, in questo caso un infinito, generalmente usiamo l'infinito passato. Infatti l'infinito passato non è altro che il verbo essere o avere coniugato all'infinito, quindi essere e avere, più il participio passato del verbo che vogliamo coniugare. Questo perché, se voi ci pensate, io qua sto raccontando una storia. Quindi io prima ho visto il balcone di Giulietta e poi sono andato in Piazza Dante. Quindi, per questo motivo, il balcone di Giulietta succede prima di andare in Piazza Dante. Allora, per questo motivo, noi usiamo dopo più l'infinito passato, perché è un'azione passata. Ovviamente possiamo usare dopo con qualsiasi altro tempo. Per esempio, se tuo figlio o tua figlia ti chiede Mamma, papà, mi puoi per favore comprare la nuova PlayStation? Tu ci vuoi pensare, allora dici Dopo vediamo. Però quando usiamo l'infinito, beh, generalmente usiamo l'infinito passato, perché di solito diciamo dopo un'azione passata, succede qualcos'altro. Come hai potuto notare, ho detto dopo aver visto. Beh, questo è molto comune. Di solito i verbi essere e avere all'infinito perdono la e finale davanti un altro verbo oppure un participio passato. Infatti si dice aver visto, aver mangiato, aver fatto. Il verbo essere è un po' più flessibile. Infatti posso dire essere andato oppure essere andato. Esser venuto o essere venuto. Purtroppo non ci sono delle regole fisse, però ricorda avere di solito la togliamo, essere dipende. E state decidere. Questo perché per i cattolici era illegale prestare dei soldi e pretenderne di più. Era illegale prestare dei soldi e pretenderne di più. Questo perché per i cattolici era illegale prestare dei soldi e pretenderne di più. Prima di tutto, che cosa significa pretendere? Beh, se parli inglese, pretendere non significa to pretend. Questo perché to pretend si dice fare finta. Infatti pretendere significa richiedere, richiedere con forza. In questo caso col verbo pretendere usiamo la particella ne che sostituisce soldi. Questo perché io nella frase ho detto, ascoltiamo di nuovo. Era illegale prestare dei soldi e pretenderne di più. Guardate, era illegale prestare dei soldi. Non sto dicendo prestare i soldi, ma prestare dei soldi. Quel dei ha la funzione di partitivo. Per questo motivo dobbiamo sostituire soldi con la particella ne. Di nuovo, se vuoi imparare di più come funziona la particella ne, che usiamo sempre in italiano, ti lascio un link qua sotto in descrizione per guardare un altro video. Le persone che si presumeva avessero compiuto dei reati. Si presumeva avessero compiuto dei reati. Le persone che si presumeva avessero compiuto dei reati. Beh, qui la struttura è un po' più complessa, perché abbiamo un congiuntivo trapassato. Infatti io ho il verbo principale presumere, che ovviamente indica, dà l'idea di un dubbio. Qui ho il verbo presumere al passato, all'imperfetto e anche nella forma impersonale. Infatti dico si presumeva, cioè uno presumeva. Ora, l'azione di fare un reato è precedente rispetto all'azione di pensare che quella persona abbia fatto un reato. Giusto? Quindi prima tu fai il reato e poi le persone presumono che tu abbia fatto un reato. Per questo motivo noi usiamo si presumeva all'imperfetto e poi per esprimere l'idea di anteriorità del fatto che quella persona ha compiuto un reato ancora prima, usiamo il congiuntivo trapassato. Lo so, le concordanze sono sempre un po' complesse, ma ho fatto un video anche su questo argomento, che come sempre puoi trovare nel link in descrizione. ormai non devo più dirlo. E comunque qui puoi capire che tutto quello che io spiego sul mio canale, le cose di grammatica che magari, oh ma questo è troppo complicato, lo usate nella lingua di tutti i giorni? Beh sì, lo usiamo. Ok, andiamo avanti, continuiamo a guardare. Uh, adesso abbiamo la parte col cameriere. Bello, ok. Buono, però ho visto anche questo bollito misto. Questo è il classico piatto della domenica di noi veronesi? Qui non c'è molto da spiegare, però voglio semplicemente dirvi che quando noi diciamo questo è il piatto classico della domenica, è perché ricordate che in Italia il pranzo della domenica è un evento culturale molto importante. Infatti di solito il pranzo della domenica è più lungo, più abbondante e di solito lo passiamo sempre in famiglia. Quindi quando sentite il piatto della domenica, è perché il pranzo della domenica è più importante rispetto agli altri pranzi. Se volete magari posso fare proprio un video sulla domenica e sul pranzo della domenica, fatemelo sapere qui sotto. E poi l'accompagniamo con salsa creme, salsa verde e mostarda. Questa è pesantina, però. Questa è pesantina, però. Beh, qui stavamo dicendo che la peara, che era quello che volevo ordinare, beh, è un piatto abbastanza pesante. Quando noi aggiungiamo il suffisso ino o ina, che normalmente significa una cosa più piccola, ha un aggettivo, come in questo caso pesantina, stiamo dicendo che è un po' pesante. Però pesantino, pesantina, dà più l'idea di qualcosa di pesante. Diciamo che stiamo provando a dire che qualcosa è molto pesante, ma non vogliamo usare delle parole troppo forti. Allora per questo motivo usiamo il suffisso ino o ina, per abbassare i toni. Ok, un po' d'acqua? Sì, un po' d'acqua, dai. Giusto per lavare le mani? Va benissimo. Ok, qui lui ha detto, vabbè, vuoi il vino? Sì, ho preso il vino. E poi mi ha detto, vuoi l'acqua? Sì, sì, certo, voglio l'acqua. E poi lui aggiunge, giusto per lavare le mani. In Veneto le persone bevono tanto, quindi non è che l'acqua è una cosa molto popolare. Però, ovviamente, io l'aggradivo. Però lui mi ha detto, giusto per lavare le mani. Cioè, non berrai quell'acqua, non userai quell'acqua per bere, ma soltanto per lavare le mani. Ora, attenzione qui alla parola giusto. Infatti, giusto, che significa corretto, in realtà ha anche un altro significato. Nell'espressione giusto per, più qualcosa, in questo caso un verbo, significa semplicemente solo. Quindi, giusto per lavare le mani, cioè solo per lavare le mani. Grazie. La faccio subito, caro. Perfetto, gentilissimo. La faccio subito, caro. Era molto gentile. Comunque, te la faccio subito, caro. Significa che io faccio a te subito la, cioè il piatto, la peara, questo piatto, caro. Caro è semplicemente un modo educato che viene usato per riferirsi ad una persona in modo gentile ed educato. Ovviamente abbiamo sia caro che cara. Ovviamente è abbastanza informale, ma ero in una trattoria, quindi lui ha fatto benissimo ad utilizzare questo termine. Va benissimo, allora hai imparato nuove parole ed espressioni di questo vlog? Che cosa ne pensi? Fammi sapere quante cose nuove hai imparato qui sotto nei commenti, ma se hai altre domande sui vlog, fammelo sempre sapere qua sotto. E ovviamente dimmi anche se vuoi che io faccia questo per tutti i vlog o per gruppi di vlog. E se non hai visto i miei vlog a Verona, che cosa aspetti? Vagli a guardare, trovi il link qui sotto in descrizione. Se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il mio canale, lascia un bel mi piace e non dimenticarti anche di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su tutti i video futuri. E mi raccomando, seguimi anche su Instagram, Teacher Stefano, perché lì pubblico sempre tante cose interessanti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!